William Shakespeare Berger era un uomo d'affare di Cincinnati che dal 1910 fino all'anno della sua morte, nel 1972, collezionò oltre 500 pupazzi. Vi sono diversi musei particolarmente inquietanti e la casa di questi burattini lo è anch'essa. La sua collezione, infatti diventata un museo senza scopo di lucro, visitabile ogni anno tra maggio e settembre. Non solo i pupazzi di Will, nel museo vengono infatti ospitati anche i burattini di diversi ventriloqui i cui proprietari sono morti e non avendo nessun'altra casa. Una trovata davvero interessante e sicuramente dalle immagini la vostra curiosità si sarà fatta sentire insieme ad una profonda sensazione di inquietudine.